ciao bimbi come state spero che stiate tutti bene allora ritorniamo un momento al discorso che avevamo già incominciato sulla descrizione in questi giorni in cui siamo stati costretti a fermarci a casa ma a continuare a lavorare insieme abbiamo lavorato sulla descrizione degli animali infatti se vi ricordate mi avevate mandato una descrizione di animali prima ancora quando eravamo ancora a scuola avevamo lavorato sulla descrizione di ambienti adesso è il momento di lavorare sulla descrizione di persone è un lavoro che abbiamo già fatto insieme l'anno scorso ma come abbiamo già detto tante volte si tratta di diventare sempre più bravi di migliorare la nostra capacità descrittiva il libro ci propone una descrizione di un capitano capitanar castle alla pagina 84 85 del libro di lettura io vi chiedo di leggere con attenzione questa descrizione e come sempre di ricopiare sul quaderno la parte in alto a sinistra in rosa di pagina 84 come sempre utilizzando le biro colorate come siamo abituati a fare in classe leggiamo velocemente insieme questa descrizione capitanoar castle era un ometto magrolino e nervoso gran giocatore di pallone sul campo indossava calzoncini bianchi scarpe da ginnastica bianche e calzette bianche aveva due gambette bianche e legnose come quelle di un ariete più che rossi i suoi capelli erano di un arancione acceso come di arancia matura e lui li teneva incollati al cranio con un'enorme quantità di brillantina ostentava un paio di baffi dello stesso colore dei capelli e che baffi una visione assolutamente terrificante uno spesso cespuglio arancione che germogliava tra il naso e il labbro superiore e correva attraverso la faccia dalla metà di una gota guancia alla metà dell'altra dietro i baffi rosseggiava un viso feroce con la fronte bassa solcata da profonde rughe segno di un'intelligenza limitata capitanoar castle non stava fermo un istante la sua testa arancione era in continuo movimento in predati callarmanti accompagnati da brevi grugniti delle narici si diceva che quei suoi continui scuotimenti fossero la conseguenza di un trauma subito al fronte molto tempo prima in guerra forse qualche oggetto esplosivo gli era scoppiato molto vicino con terribile fragore questa è la descrizione del nostro libro l'autore è dal è lo stesso autore che abbiamo già conosciuto per la fabbrica di cioccolato ad esempio e il ggg anche insomma è un autore che conosciamo vi chiedo di fare attenzione a quelle che sono le caratteristiche la descrizione dell'aspetto fisico quali caratteristiche pensate a come è vestito ma anche alle gambette secche come quelle di un ariete ai capelli ai baffi arancioni vi chiedo di fare attenzione agli aspetti del comportamento vedete che questa descrizione parte dalla presentazione di questa persona il titolo ci dice il suo nome ci dice quali sono le sue caratteristiche fisiche e poi passa a raccontarci qualcosa del suo comportamento capiamo da come viene descritto che è molto nervoso secondo voi questa descrizione è oggettiva o soggettiva e soggettiva perché è assolutamente filtrata dal punto di vista dal modo di vedere di chi scrive ad esempio adesso sto guardando pagina 85 dove c'è la domanda arancione la descrizione è oggettiva o soggettiva mi dice il testo è soggettiva perché contiene impressioni personali dell'autore ad esempio ci dice che il capitano è poco intelligente a causa della fronte bassa non è vero questa è assolutamente una visione di chi scrive una opinione un'idea di chi sta scrivendo quindi la descrizione del capitano è assolutamente assolutamente soggettiva allora come sempre il lavoro da fare è questo io vi chiedo di copiare la parte in alto a sinistra in rosa di pagina 84 sul quaderno poi vi chiedo beh non possiamo lavorare a coppia perché siamo ognuno a casa propria però vi chiedo di immaginare cioè di fare l'esercizio di pagina 85 e cioè di immaginare che il capitano sia un altro che abbia caratteristiche fisiche diverse da quelle descritte insomma inventatevelo voi poi provate a scrivere questa descrizione e mi mandate la descrizione solo la descrizione non ho bisogno di vedere che avete copiato sul quaderno la pagina 84 mi fido ok prima copiate e poi però pensate a una descrizione diversa di un altro capitano come piace a voi con caratteristiche fisiche anche di comportamento differenti e poi mandatemela ok buon lavoro in questi giorni continueremo a lavorare sulla descrizione ciao